La melanzana è una pianta orticola che tutti conosciamo per i suoi caratteristici frutti molto utilizzati per preparare gustose pietanze. A seconda delle varietà sono allungati, tondeggianti di varie dimensioni e colori. È una di quelle orticole che con dei piccoli accorgimenti possiamo coltivare anche in vaso e potrà regalarci gustosi frutti. Vediamo assieme cosa fare. Per la coltivazione in vaso preferiamo partire da piantine già sviluppate che possiamo acquistare in vivaio o garden in primavera. Andremo a trapiantarle non prima della metà di aprile e quando la temperatura esterna, anche quella notturna, si è intiepidita. Per il trapianto abbiamo bisogno di un vaso profondo e capiente di diametro di circa 40 centimetri e altrettanto alto. In ogni vaso andremo a mettere solo una piantina in quanto la pianta di melanzana si sviluppa molto e può raggiungere anche un'altezza di 50-60 centimetri. Possiamo munire le piantine con dei sostegni in caso di posizionamento in vaso, in zone ventilate o per aiutare la pianta a sorreggere le future fruttificazioni. Il terreno deve essere leggero, ricco di sostanza organica. Noi utilizziamo il terriccio universale Garten Torfico, un terriccio biologico. Quindi andremo a posizionare nel vaso il terriccio. Sul fondo del vaso abbiamo precedentemente messo dell'argilla espansa. in questo modo la pianta non andrà a soffrire i ristagni idrici e non si svilupperanno dei marciumi. Andremo quindi a posizionare la pianta nel vaso. Aiutandoci quindi con le mani faremo un foro delle dimensioni più o meno del pane di terra della pianta. La posizioniamo, copriamo con un po' di terra e compattiamo il terreno. Per favorire l'attecchimento delle piantine andremo a concimare con il concime biologico orto domestico 1. Andremo a posizionare il concime granulare sul terreno della pianta, intorno alla pianta. Lo interriamo leggermente, in questo modo, e innaffiamo. In questo modo la pianta non subisce lo stress dato ad altra pianta e si migliora anche l'attecchimento della pianta. La pianta quindi crescerà più forte e più robusta. Andremo a questo punto a posizionare la pianta in un angolo del balcone del terrazzo esposto in pieno sole. La melanzana è una pianta con elevate esigenze termiche, molto sensibile al freddo e infatti non sopporta temperature inferiori ai 13 e 15 gradi. La melanzana richiede un'irrigazione moderata nelle prime fasi vegetative. Infatti in questo periodo andremo ad irrigare due o tre volte a settimana. Durante l'accrescimento dei frutti invece è molto importante innaffiare regolarmente in modo da non comprometterne il raccolto. La mancanza di acqua può infatti causare l'arresto della vegetazione e anche della fruttificazione. Se l'acqua manca per molto tempo si ha l'ingiallimento delle foglie, si può avere anche la caduta dei fiori e anche dei frutti. Per favorire la produzione di tanti frutti dolci e gustosi bisogna naturalmente nutrirla in modo adeguato. Non lo facciamo attraverso la concimazione con il concime biologico orto domestico 2. Andremo a diluire la dose riportata in etichetta in uno spruzzino e con tale soluzione irroriamo le foglie. Questo trattamento andiamo a farlo quando la pianta quindi è già sviluppata prima dell'emissione dei fiori, quando fiorisce e appena si formano i frutti. Una volta che le melanzane sono della grandezza di circa un limone, invece andiamo a concimare con orto domestico 3 per favorire quindi l'ingrossamento, la maturazione e miglioriamo quindi la qualità finale del frutto che andremo poi a mangiare. Le piante di melanzana molto spesso vengono attaccate dalla peronospora. La peronospora è un fungo che inizialmente si manifesta sulle foglie con delle macchie decolorate giallognole che imbruniscono e disseccano. Il fungo può attaccare però anche i frutti che presenteranno delle aree depresse e stoppose. Noi possiamo prevenire l'attacco di questo fungo utilizzando il fungicida biologico Ciprus 25DF oppure in presenza della malattia appunto lo andiamo a utilizzare quando vediamo appunto l'effettiva presenza del fungo. Dobbiamo solo avere l'accortezza di rispettare il tempo di sicurezza di portata in etichetta prima di consumare i frutti di melanzana. Per favorire la crescita di piante sane e rigoliose, quando la pianta di melanzana ha raggiunto un'altezza di circa 30-40 centimetri è molto importante cimare l'estremità del fusticino. Conviene anche eliminare i germogli ascellari, questo perché? Perché la pianta vanno a sottrarre nutrizione alla pianta, in questo modo invece eliminando queste parti qui la pianta si sviluppa meglio. Molto importante è anche eliminare le foglie basali presenti alla base della pianta, questo perché se quando andiamo ad irrigare queste foglie si bagnano possono svilupparsi dei marciumi che poi vanno a compromettere il raccolto e la crescita regolare della pianta. Andremo a raccogliere i frutti man mano che maturano, tagliandoli dalla pianta con una parte di picciolo, questo ci consente di prolungare la conservazione. Ci accorgiamo che un frutto è maturo e pronto quindi alla raccolta quando ha raggiunto le dimensioni tipiche della varietà, è turgido, di colore viola intenso, sempre questo in funzione della varietà che abbiamo acquistato e che stiamo coltivando, è un colore brillante. Quando il colore della melanzana infatti si opacizza significa che la melanzana è sovramatura e quindi non è più molto buona al consumo. Ed ora una curiosità, la melanzana è un ortaggio che occupa molto spazio ma vale comunque la pena coltivare in brazzo sul balcone almeno una pianta non solo per i suoi gustosi frutti ma anche per ammirare le sue voluminose foglie di color verde porpora e i fiori lilla molto molto decorativi.